In una domenica di sport senza basket, gli occhi dei tifosi pesaresi si sono concentrati sulla serie C di calcio, con la Vispesoro che ad Alessandria va sotto due volte e due volte recupera strappando un 2-2 contro una diretta concorrente. Al vantaggio dei grigi consiglia risponde il vissino Zoya nel primo tempo, poi l'Alessandria resta in 10 nel finale di frazione, ma la Vis non ne approfitta. Anzi, va di nuovo sotto 2-1, ma si salva l'87esimo col primo gol fra i professionisti del 2004 Sanogo. Un pari che complica la classifica di una vis che vede rimontare Olbia e Sandonato alle spalle dei pesaresi. In serie D pareggia anche il Fano 0-0 a Termoli con i Granata che resistono in 10 uomini dopo l'espulsione di Allegrucci. In serie A di calcio 5 altri tre punti importantissimi per l'Ital Service Pesaro che batte 4-2 Pistoia al Palafiera infiocchettando una perfetta giornata bianco-rossa convocata dalla società. Match sbloccato dopo 7 minuti da João Miguel, poi il pari toscano di Galindo, ma l'Ital Service ritrova il vantaggio con Murillo Schiochet che ha firmato il 2-1 di primo tempo e poi in avvio di ripresa 3-1 ancora di Schiochet che poi troverà pure la tripletta per il 4-2 controbilanciato dalla doppietta toscana di Galindo. Nel volley la Megabox Vallefoglie spugna Firenze 2-3 conquistando altri due punti che rifocillano la classifica delle Tigri. In Toscana la squadra di Mafrici va avanti 2-7-0 ma il Bisonte non molla e trascina la gara al tie-break dove la Megabox vince il match col 13-15 con cui sigilla il quinto set.